Ben ritrovati amici di Padre Pio TV, in questa puntata Spazio Salute si occuperà dell'allattamento al seno e per parlare di questo argomento sono con noi in studio la dottoressa Anita Riganti che è medico dell'unità di neonatologia e terapia intensiva neonatale presso Casa Solievo della Sofferenza e accanto a lei la dottoressa Maria Libera Pasqua che è psicoterapeuta e presidente dell'associazione Ad Personam centro di promozione sociale e supporto per l'individuo e per la famiglia e parleremo anche in particolare di questa associazione nella seconda parte del nostro Spazio Salute. Iniziamo adesso a parlare del bambino nelle sue prime fasi di vita e in particolare di quello che avviene nel reparto di neonatologia di Casa Solievo della Sofferenza per inquadrare meglio anche il ruolo svolto dalla dottoressa Riganti e per capire anche meglio come si inquadra l'argomento di cui stiamo per parlare. Perciò entriamo nella neonatologia di Casa Solievo e ci fa da Cicerone il dottor Pierpaolo Cristalli che è il direttore di questa unità operativa e il servizio. Uno degli obiettivi principali della nostra attività quotidiana è quella della umanizzazione delle cure. Questa umanizzazione viene ricercata attraverso una serie di procedure, per esempio nel neonato sano quando nasce noi promuoviamo, sosteniamo un attaccamento precoce e prolungato del neonato con la sua mamma questo favorisce non solo l'attaccamento, il cosiddetto bonding, ma anche favorisce soprattutto l'allattamento materno che è una delle cose più importanti dal punto di vista della salute delle future generazioni e il nostro compito è sostenerlo al massimo. Se poi il neonato ha bisogno di terapia, anche di terapia intensiva neonatale, il neonato viene ricoverato in teen. Anche lì i genitori sono i benvenuti, vengono accolti, vengono incoraggiati a prendere contatto diretto con il proprio figlio e in effetti viene promossa la cancro mater care, cioè che è una terapia che serve attraverso un contatto pelle a pelle a sviluppare determinate funzioni del neonato ed offre degli enormi benefici per il neonato e anche per la sua mamma. Già il dottor Cristalli ha introdotto dunque l'argomento della puntata di oggi. Dottoressa Riganti, si è conclusa da poco la settimana mondiale dell'allattamento al seno 2018. A questa settimana mondiale lei ha preso parte e allora ci vuole spiegare di cosa si è parlato. La settimana mondiale dell'allattamento ormai è una realtà da più di 25-26 anni, voluta da organizzazioni come MAMI e come l'UABA che è l'alleanza praticamente per tutte le azioni che possono promuovere l'allattamento materno. Questa settimana è un contenitore in cui si hanno eventi, si organizzano corsi, incontri per tutti coloro che vogliono sostenere e promuovere l'allattamento al seno. E questo appunto è avvenuto anche nella nostra zona ed è già il secondo anno che noi come Casa Sollievo partecipiamo perché l'allattamento al seno, come ha detto il dottor Cristalli, è una delle nostre priorità da moltissimi anni. In particolare io faccio promozione all'allattamento materno attraverso per esempio l'incontro con le mamme nei corsi di accompagnamento alla nascita che come se ci sarà a modo vedremo è uno dei punti fondamentali per promuoverlo e per portare formazione e informazione alle future mamme. Inoltre il discorso dell'allattamento al seno è ovviamente ormai da anni stabilita come una priorità della salute. Organizzazione Mondiale della Sanità e UNICEF unitamente hanno indicato come unica possibilità per migliorare la condizione di salute e ridurre la spesa sanitaria negli anni un allargamento della base di donne che allattano in maniera esclusiva e soprattutto protratta. E' importante infatti, questi due aggettivi sono molto importanti perché molte donne, soprattutto nelle realtà occidentali e in Italia ad esempio, noi da questo punto di vista siamo una regione abbastanza virtuosa perché nell'ultimo studio epidemiologico di Epicentro si è visto che nella regione Puglia l'88-89% delle donne inizia ad allattare. Il problema nasce poi nell'esclusività di questo allattamento e nel fatto di protrarlo oltre i primi mesi come indicato per raggiungere i massimi vantaggi sia per il bambino, sia per la donna, per la famiglia e per l'intera società. Quindi abbiamo capito che ci sono tanti vantaggi nell'allattamento materno e allora ce li vuole spiegare, entriamo nel vivo, ecco le permettiamo di fare promozione anche al di là della settimana mondiale e di far capire ai nostri telespettatori, in particolare alle telespettatrici, quali sono le proprietà del latte materno. Allora il latte materno è prima di tutto più di un liquido biologico, è un vero e proprio tessuto, un tessuto vivente perché nella sua composizione entrano talmente tanti fattori e tante cellule che per poterli elencare tutti probabilmente ci vorrebbero 5 diapositive e il tessuto latte varia continuamente, non è sempre lo stesso, non è lo stesso a seconda se la mamma partorisce prematuramente o partorisce a termine. Questo perché un bambino prematuro ha delle necessità completamente diverse di un neonato a termine. Cambia a seconda del momento in cui ci si trova dalla nascita. Il primo latte, il colostro, il famoso latte giallo, anche se in piccole quantità, è veramente oro perché possiede all'interno delle sostanze anti-infettive eccezionali e oltretutto è un latte particolarmente ricco di proteine e di calorie perché il bambino appena nato ha bisogno di questo. Ma il latte si modifica ancora, si modifica nel corso dei mesi dopo la nascita, si modifica nel corso della giornata, si modifica nella stessa poppata, tant'è vero che alla fine della poppata il latte è più ricco di grassi. Questo serve al bambino per imparare il senso della sazietà. Uno dei problemi fondamentali, uno degli allarmi di questo nostro millennio è l'obesità infantile. Probabilmente i nostri figli e le nuove generazioni non percepiscono il senso della sazietà. L'allattamento al seno insegna anche questo. Inoltre il latte si modifica a seconda della condizione di salute del bambino ed è una cosa incredibile e meravigliosa. Questo viene fuori da uno studio di una università che è partito grazie all'osservazione occasionale di una mamma, che le mamme sono molto attente. Questa mamma tirava il suo latte perché era tornata al lavoro e a un certo punto ha visto che il suo latte era cambiato di aspetto. Sembrava il colostro dell'inizio. Dice, ma che sta succedendo? La sera sua figlia aveva la febbre. Ecco, si è visto che il bambino tramite probabilmente la saliva dialoga con la ghiandola mammaria della sua mamma e se il bimbo ha un'infezione in atto, la mamma produce un latte molto più ricco di sostanze antinfettive. I vantaggi poi dell'allattamento al seno sono immensi, sono quelli nutrizionali, antiallergici, antiinfettivi. Inoltre riducono un evento molto grave che è la morte improvvisa in culla. Si è visto che i bambini allattati esclusivamente al seno hanno un 75% di probabilità in meno di avere una morte in culla. Inoltre, alla lunga, con un allattamento protratto, i bambini vengono protetti anche da leucemie, linfomi e poi in età adulta saranno protetti da quella che viene chiamata la sindrome metabolica, cioè il diabete, l'ipertensione, gli accidenti cardiovascolari. Per la donna ci sono altrettanti vantaggi. Ci sono i vantaggi, per esempio, sulla riduzione dei tumori della sfera genitale, del seno e dell'ovaio. Tanto più importante è la riduzione dell'incidenza di questi tumori, quanto più lungo è il tempo di allattamento. E poi, una cosa molto importante, tutte le donne, chi più chi meno, hanno una fase di depressione postpartum. L'allattamento al seno si è visto ridurre nettamente questo evento e facilitare la transizione dalla gestazione al dopo parto nelle donne che allattano esclusivamente. In più, il latte di donna è gratuito, è sempre pronto, è economico e quindi è un aggravio in meno sulla spesa della famiglia. È ecosostenibile. Uno dei fattori maggiori nell'effetto serra è legato proprio all'aniside carbonica che producono le mucche, che in ultima istanza sono quelle che producono il latte da cui viene fuori il latte artificiale. Quindi allattare è un gesto di salute, è un gesto, poi ne parlerà la dottoressa Pasqua, di amore e di relazione. I bambini che vengono allattati esclusivamente al seno e per un tempo protratto hanno un quotiente intellettivo più alto. Quindi, come vedete, sono enormi vantaggi in un gesto che può sembrare semplice e quasi banale. Ecco, dottoressa Pasqua, allora dal punto di vista psicologico qualcosa ne ha accennato anche la dottoressa Riganti. Dal punto di vista psicologico c'è un vantaggio reciproco per mamma e bambino con l'allattamento al seno? Sì, un vantaggio reciproco perché comunque sia la mamma che allatta si sente una buona madre e quindi diciamo si rafforza proprio l'autostima, la sua autostima di mamma efficace. Ma anche per il bambino comunque sentire il calore della madre, quello che diceva anche il dottor Cristalli, il contatto pelle a pelle durante l'allattamento, le carezze che la mamma gli fa, ma anche gli sguardi quando il bambino diventa un pochino più grande, comunque rafforzano le sue competenze di bambino, ma anche aiutano il bambino ad avere uno sviluppo psichico anche migliore nel, diciamo, nel, poi dopo nella... Nell'età evolutiva. Sì, nell'età evolutiva. Abbiamo spiegato quali sono i vantaggi per le madri e per i bambini dal punto di vista sia del benessere fisico, sia del benessere psicologico, dell'allattamento al seno, ma ci sono alcune mamme che affrontano un parto pretermine, quindi che non hanno la possibilità di allattare i propri figli perché non dispongono di latte. A questo proposito, Casa Sollievo della Sofferenza ha attivato una banca del latte umano donato che fornisce l'alimentazione ai neonati pretermine. A spiegarci di cosa si tratta è la dottoressa Pasqua Quitadamo, che è medico dell'Unità di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale di Casa Sollievo della Sofferenza. Il servizio. La banca del latte umano donato della Terapia Intensiva Neonatale di Casa Sollievo della Sofferenza è una realtà importante. È attiva dal 2010, ha raccolto fino ad ora 2.400 litri di latte materno, ha reclutato più di 700 donatrici e ha alimentato 400 neonati prematuri. Sono proprio i neonati prematuri e i destinatari di questo bene prezioso che tutte le società scientifiche, tutte le organizzazioni nazionali e internazionali che si occupano di salute indicano come unica alternativa al latte della propria madre perché è stato proprio ampiamente dimostrato che l'uso estensivo del latte umano riduce significativamente le principali complicanze della prematurità. prima fra tutte una patologia intestinale davvero temibile perché è gravata da un alto tasso di mortalità e nella nostra esperienza possiamo chiaramente affermare che l'uso esclusivo del latte umano della propria madre quindi fino a quando questo non risulta disponibile o laddove non fosse disponibile e quello del latte donato di banca ha totalmente azzerato l'incidenza di questa patologia. La banca del latte di San Giovanni Rotondo è un posto dove le madri investono in maniera del tutto spontanea un bene prezioso sapendo che otterrà certamente un guadagno in termini di sopravvivenza, di salute e di benessere nel breve e nel lungo termine per i neonati prematuri quindi neonati fragili. Dottoressa Eliganti abbiamo dunque compreso che il latte umano meglio se materno ha tanti vantaggi però va bene anche il latte di altre madri che lo donano certo non è come quello materno perché scattano tutta una serie di meccanismi comunque il latte umano per i neonati è la cosa ideale. Lei spesso proprio per la sua attività di promozione dell'allattamento al seno si ritrova anche a contatto con madri che hanno uno stile di vita diverso alcune delle quali magari lamentano che hanno ritmi di vita modelli organizzativi, problemi di lavoro che spesso o interrompono o rendono impossibile o fanno pensare che sia impossibile l'allattamento al seno e che magari interrompono questa pratica e non la iniziano per nulla. Allora cosa dice a queste mamme? Allora prima di tutto che chi ben inizia la metà dell'opera ovviamente un buon attacco al seno immediato ed è per questo che bisogna affidarsi e partorire in posti dove la cultura dell'allattamento al seno è sentita come nel nostro reparto in cui praticamente alla mamma viene data l'opportunità di avere il suo bambino immediatamente a lungo pelle contro pelle, pelle a pelle, contatto in maniera tale da facilitare quelle che sono delle competenze istintive del bambino qualsiasi neonato può succhiare al seno della propria madre come d'altro canto bisogna formare e informare le mamme e sicuramente è molto prezioso la possibilità di incontrarle prima durante la gravidanza in un corso di accompagnamento alla nascita ma comunque anche diciamo di cercare di fare formazione negli incontri prima del parto e ovviamente subito dopo il parto perché le donne devono avere la consapevolezza di poter allattare ecco è l'empowerment femminile che deve essere il nostro scopo non siamo noi che facciamo allattare la mamma e la mamma che allatta il suo bambino questo è un dato importantissimo io spesso dico una frase molto semplice guardate alle mamme africane e asiatiche dove la percentuale di allattamento al seno esclusivo è altissima anche perché il non allattare il proprio figlio significherebbe destinarlo a morte sicura quindi il discorso è la naturalità cioè attaccare frequentemente sempre il proprio bimbo prima ancora che il bimbo pianga imparare in questa meravigliosa relazione che l'allattamento al seno consente di capire i segnali precoci del proprio bambino una volta iniziato un buon allattamento ricordarsi che fortunatamente la legge italiana prevede delle facilitazioni per la donna che ha partorito e quindi noi abbiamo il diritto e il dovere di continuare l'allattamento esistono delle modalità semplici anche di continuare l'allattamento una volta che si è tornati al lavoro soprattutto se uno ha la fortuna di tornarci col bambino che ha magari 5-6 mesi quindi in una fase in cui è possibile fare lo svezzamento e anche 2-3 poppate della propria madre diventano preziose esistono piccoli sistemi tirare il proprio latte imparare a conservarlo farsene una scorta almeno 1-2 mesi prima di tornare al lavoro e comunque avere un colloquio col proprio datore di lavoro per cercare il modo migliore di continuare l'allattamento se ci fosse un asilo vicino al posto di lavoro ricordatevi che lo potete fare ma potete continuare ad allattare anche tornando a casa e anche nel caso che il bambino sia tanto piccolo da aver necessità di essere allattato almeno ogni 3-4 ore avete la possibilità di tirare il latte di conservarlo in maniera che colui che si prende cura del vostro bambino nell'intervallo in cui voi non siete a casa potrete tranquillamente far dare il vostro latte che rimane una risorsa eccezionale e considerate che appunto i suoi fattori anti-infettivi continuano sempre e il bimbo che magari va all'asilo sarà maggiormente protetto dalle infezioni e sarà un bambino più sano e più sereno Dottoressa Maria di Vera Pasqua possiamo definire l'allattamento mamma-bambino una relazione fra i due? Sì sicuramente una relazione che inizia ancora prima che nasca il bambino quindi già nel grembo materno c'è già una relazione e poi quando appunto il bambino nasce come dicevo anche prima con le carezze il contatto anche l'odore della madre il bambino e la mamma la coppia madre-bambino continuano questa relazione così importante nel momento in cui diciamo c'è nel momento in cui la mamma allatta questo allatta al seno questo diciamo questo legame si legame appunto che viene detto di attaccamento si intensifica ancora più e anche se però dobbiamo sempre tenere presente che ci sono comunque delle la coppia ogni coppia madre-bambino è diversa l'una dall'altra quindi ad esempio un bambino può essere più vivace più irrequieto più tranquillo e quindi anche il legame con la madre può essere diverso da un bambino da un bambino all'altro oppure anche comunque la personalità della madre può essere diversa e quindi ma anche per esempio il rapporto che la madre ha rispetto all'allattamento oppure il rapporto che la madre aveva con la propria madre quindi ci sono tutta una serie di variabili che ci aiutano ad affermare che ogni allattamento è diverso dall'altro e quindi in questo il ruolo del sostegno anche al di fuori cioè quando la madre esce dall'ospedale è importantissimo e fondamentale nel presentarlo abbiamo detto che lei è presidente dell'associazione Ad Personam di Manfredonia di cosa si occupa questa associazione abbiamo un minuto per dirlo l'associazione Ad Personam si occupa soprattutto di benessere del psicofisico della persona a 360 gradi quindi da prima che il bambino è nel grembo della madre poi nella prima infanzia adolescenza e età adulta uno dei nostri obiettivi principali è quello della informazione e della diciamo della prevenzione per questo motivo da due anni anche perché siamo nati proprio due anni fa quindi da due anni insieme in collaborazione con la con casa sollievo della sofferenza sofferenza stiamo portando avanti questa settimana mondiale dell'allattamento proprio perché crediamo fermamente che l'informazione e la prevenzione è alla base per diciamo avere anche una vita psicofisica migliore un altro obiettivo della nostra associazione è quello di fare rete e quindi diciamo per questo abbiamo diciamo ci siamo rivolti a casa sollievo e in modo particolare al dottor Cristalli che ci ha subito dato la sua disponibilità ma per esempio in questa settimana mondiale del 2018 abbiamo coinvolto tutta una serie di professionisti anche del territorio per quindi per esempio dontoiatra diciamo varie figure che ci hanno aiutato a capire come l'allattamento è importante da vari punti di vista ecco la logopedista non mi veniva al termine quindi che ci ha che ci ha aiutato a capire come l'allattamento è veramente importante da tanti punti di vista e quindi diciamo anche in questo stiamo cercando di fare rete noi come associazione ad personam sul territorio e in questa rete ci siamo inseriti anche noi come ultimo anello per veicolare questo messaggio sull'importanza dell'allattamento al seno grazie alla dottoressa Riganti grazie alla dottoressa Pasqua per aver dato ai nostri telespettatori questa opportunità e grazie anche a voi per averci seguito anche oggi grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.